allora che appuso per le foto io volevo condividere con voi questa informazione per chi ha iphone mi sono innamorata del filtro drammatico caldo colori caldi anzi quindi usatelo perché è tutto un po' drammatico colori caldi in fondo come non mette tutte le volte che ti ho detto va bene cancella e fai così come non mette tutte le sfotte e le strade per stare insieme e poi riferdersi come non mette non conta l'arrivo conta il cammino l'hai capito da stavo pensando ma se io sto weekend sono sfornata di cibo e ho la pancia più o meno come quella della donna incinta posso parcheggiarci qua oppure no? ciao raga sono qua con riccardo che non c'entra nulla con quello che vi sto per dire vi volevo dire che sarò intervistata tra pochissimo quindi verso le due un quarto due e mezza al programma un giorno da pecora su radio rai 1 quindi sintonizzatevi perché un giorno da pecora buco grazie